Il principe William ha condiviso un momento toccante mentre salutava una vedova di cento anni mentre svelava un nuovo memoriale alla Royal Navy, il duca di Cambridge è apparso mercoledì al National Memorial Arboretum per svelare un memoriale ai sottomarini e alle loro famiglie nello Staffordshire. Il dovere reale, originariamente destinato alla regina, vedeva il duca rendere omaggio ai sottomarini continuata resilienza, durante la sua visita, William incontrò sottomarini, veterani e alcune delle loro famiglie. William trascorse del tempo con la vedova Diana May. Cento anni, il cui primo marito, il tenente Gordon Noll, allora 25enne. Il tenente Noll, comandante della HMS Untamed, morì insieme al suo equipaggio nel Clyde nel maggio 1943. William ha posato una mano consolante sul braccio della signora May mentre incontrava le famiglie alla cerimonia commemorativa. Il duca ha anche incontrato il tenente comandante Ian Moline, che è stato assassinato sull'HMS Astute dopo aver attraccato a Southampton nell'aprile 2011. L'ufficiale ha cercato di affrontare un grado minore che è andato su tutte le furie omicida a bordo di un sottomarino a propulsione nucleare prima di essere colpito. La vedova del tenente comandante Moline, Gillian Moline, ha detto al duca che l'inaugurazione del nuovo memoriale era stata emozionante. William ha anche tenuto un breve discorso rivolgendosi al servizio sottomarino prima di svelare il memoriale. Ha detto dei militari, sarebbe difficile trovare un ambiente più impegnativo in cui prestare servizio. Il duca ha parlato di come il nuovo monumento, imbriglia nella forma fisica le lotte a cui può portare questa vita di servizio. Punto. William ha anche detto, è grazie alla continua capacità di recupero di fronte a tali sfide che siamo qui riuniti ora, con questo memoriale, non stiamo solo fornendo un punto focale per la comunità sottomarina di oggi, ma anche un commovente tributo alla memoria dei compagni di bordo e dei propri cari perduti e un luogo in cui le persone possono venire a ricordarli. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.